Parliamo un po' di sport, di te, no? Come ti tieni in forma? Insomma, ti vedi in grandissima forma, quindi insomma anche per stare in televisione, voglio dire, come ti... Allora, io faccio sport principalmente perché sono una mangiona, mi piace mangiare, quindi cerco di compensare col movimento. E quindi mi ritocca bruciare molto, quindi vuoi... Esatto, cerco in generale di condurre una vita sana, sia per quanto riguarda l'alimentazione, lo sport comunque uno sfogo, nel senso che a prescindere da quello che si fa, secondo me è importante ritagliarsi comunque due o tre ore alla settimana per dedicarsi al proprio fisico e quando riesco vado a correre, ho fatto prepugilistica, mi piace molto comunque andare a correre perché è proprio un momento mio dove stacco la testa. Quando non lavoro riesco a seguire dei corsi anche di spinning, poi in base, sai, alla città anche in cui ci troviamo, devo anche lì ritrovare la mia dimensione sportiva, quindi riescrivermi in una nuova palestra, trovare i corsi che magari mi piacciono, l'importante comunque è che riesca a muovermi almeno due o tre volte alla settimana, questo sì. Penso in questo di essere più attiva di mio marito, che quando non lavora è più pigro, io invece sono comunque di mio un'iperattiva, quindi anche in vacanza. Quindi più le trascini magari. Sì, sì, io in questo sì, devo dire di sì, mi piace molto anche uscire, passeggiare, camminare, comunque muovermi. Queste saranno parole che faranno molto pesare anche al Bologna, penso immagini, insomma. Esatto. Senti, però tu, io so che tu vieni da una famiglia di tifosi romanisti, vero? Questo sì. Quando ho conosciuto Mattia, infatti, ho iniziato a seguire, ai tempi giocava nella Roma. Meraviglioso. No, perché mi immagino la scena, no? Di lui che entra a casa. Esatto, no? Che io ho visto ultimamente un film, non so se l'hai visto, si chiama Il Campione. No. Non l'hai visto. C'è una scena in cui c'è questa ragazza che si mette insieme a un campione e lo porta a casa e c'è il padre romanista che comincia a tremare, no? E immagino, poi preparando l'intervista immaginavo la stessa scena. Alla scena. Eravamo molto giovani quando ci siamo conosciuti. Non ho detto ai miei genitori che avrei portato a casa Mattia Destro perché era arrivato da due o tre mesi alla Roma e non volevo avessero il pregiudizio del calciatore, perché naturalmente ha un papà al di là, adesso, della fede calcistica. Interessa che la figlia frequenti una persona comunque per bene. C'è sempre questo luogo comune del calciatore che sono un po' a farfalloni così. Qui glielo porto a casa, vediamo come reagiscono. Però devo dire che Mattia è un ragazzo un po' un calciatore atipico. Sì, è vero. Nel senso che è un ragazzo un con la faccia pulita, non ha tatuaggi, non ha piercing. C'è proprio un ragazzo normale. Quindi questo sicuramente ha fatto un impatto positivo nella mia famiglia. E quindi il tuo padre quando è entrato? No, vabbè, contentissimo. Il mio fratello che aveva 12 anni quando gli ero presentato, non dico neanche. Perché sono tutti della Roma. Tutti della Roma, sì. Anche mio nonno che non c'è più girava proprio con l'upacchiotto della Roma. Ma questo eccesso di romanità all'interno della famiglia ha portato te a non essere troppo difosa? Perché ci sta un po' un senso di, non lo so, quando magari non sei molto interessato, ovviamente. Io e mia mamma, insomma, le donne di casa non sono mai state appassionate di calcio. Il fatto di conoscere Mattia, ovviamente, iniziare a frequentare anche lo stadio, vedere le partite ha fatto sì che un pochino ci appassionassimo anche noi. Però mai in maniera... Tutto sommato, diciamo, è stato tutto molto... Sì, ma per fortuna mio marito è contento che io non sia proprio una di quelle mogli accanite. Meglio. Senti, invece, voi adesso abitate a Bologna? Sì, sono quattro anni che viviamo. Come ti trovi a Bologna? Perché sai, poi la vita della moglie, del calciatore, comunque per la tua professione, beh, tu ti sposti, vabbè, non è un problema. Però, dico, ti porta, magari, ecco, potrebbe portare, potrebbe portare a cambiare città spesso, eccetera, quindi trasloghi... Anche questo lo devi... Questo è da mettere in preventivo. Esatto, esatto, anche questo è da mettere in preventivo. A me ha aiutato tanto il lavoro. Io sono sempre comunque, per motivi di lavoro, tornata a Roma, che è la mia città, in casa mia. Che è la tua città, infatti, sì, sì, sì. Quindi non ho mai sentito questo distacco forte. I primi anni, anche che stavo con Mattia, che già aveva cambiato città, continuavo comunque all'eredità. Quindi, devo dirti, non ho mai sentito proprio il distacco forte dalla mia città. Ovviamente sono pronta a cambiare, a seguirlo, a prescindere da quelle che saranno le sue scelte nella sua carriera. Perché il calciatore può essere anche, magari, che ne so, in America, in Inghilterra... E quindi là, poi diventa... Ma io ti dico, sono pronta a tutto. Ah, perfetto. Quindi tu sei molto... Sì, sì, molto aperta in questo. No, no, sì, sì, sì. Anzi, penso che cambiare comunque città al di là dell'Italia, a estro... Siano comunque delle belle esperienze, esatto. Ti portano a conoscere delle realtà nuove, delle nuove città, delle nuove persone. Quindi non ti chiudi, anzi, probabilmente ti fa crescere anche questo. Cioè, è molto importante, secondo me. Senti, io ti volevo chiedere una cosa sui social, invece, no? Sì. Io lavoro su internet. Ok. E quindi mi sento il dovere di chiederti una cosa sui social network, no? I social network sono un'arma a doppio taglio, no? Questo si sa. Sì. Però allo stesso tempo sono pericolosissimi, pericolosissimi. Ti faccio un esempio calcistico, ovviamente, che è l'addio di De Rossi. Cioè, l'addio di De Rossi, la Roma che ha deciso di mandarvi a De Rossi. È notizia di qualche ora fa, sono stati... De Rossi aveva mandato un audio ad un tifoso, no? Un audio su WhatsApp. Questo tifoso, amico, si chiamava Amico, l'ha messo su Twitter. Ha fatto il tasto inoltre a WhatsApp su Twitter, questa cosa è arrivata a tutti, è scoppiato un casino, ovviamente. È uno strumento delicatissimo. Tu come ti relazioni con questo? Credo basti... No, lo uso, lo uso, ma penso basti comunque anche lì usare un pochino la testa, nel senso che ci sono delle cose che è bello condividere con le persone che ti seguono, a prescindere dal lavoro che uno faccia. Ecco, naturalmente, se lavori in televisione o se è uno sportivo, è anche bello condividere qualcosa. Non sono una fanatica, per esempio, del social, nel senso che non sono una che magari pubblica tutto, oppure le mie cose private. Ci sono delle cose che mi piace tenere mie e soltanto mie delle persone a me care. Quindi decido io cosa pubblicare e condividere. Anche quello penso poi a quel punto non sia più un rischio perché sei tu a decidere e scegliere che cosa fare. E anche l'amicizia poi in generale, al di là dei social, cioè bisogna anche saper riconoscere le persone che ti circondano perché comunque questo è un mondo, è un lavoro delicato. In cui ci sono tanti amici. Sì, esatto, cioè bisogna, secondo me, sempre ricordarsi quali sono le persone di cui fidarsi e comunque gli amici veri. Anche se si incontrano e si conoscono tantissime persone ed è bellissimo. Però io, per esempio, conservo le mie poche amiche, quelle che ho da sempre. Perché sei sicura che poi un audio non finisce sui social network? Esatto. Perché quello è fondamentale, insomma. Benissimo. Senti, io ti ringrazio di essere stata nostra ospite. e te la sai chiamata la grandissima, il calcio, perfetto. Sei pronta anche per condurre un programma sportivo, sappilo, sappilo. L'unico problema è che dovrai venire qua più spesso. Volentieri, io torno volentieri. Benissimo. Allora, grazie ancora. Ricordiamo l'appuntamento quindi con Ludovica Caramiss e ovviamente anche Carlo Conti con La Corrida. Esatto, venerdì 17. Ultima puntata. Esatto, su Rai 1 mi raccomando. In attesa della prossima stagione, poi insomma, vedremo. Vedremo, chi lo sa, viviamo il presente intanto. Grazie ancora Ludovica. Grazie a te. Un saluto e alla prossima. Grazie a te.